siamo in compagnia dei moda per parlare di testa croce cosa aggiunge al vostro percorso questo settimo album di inediti ottavo ottavo a cominciamo così ottawa scherza parla non lo dovrebbe essere il settimo se non contiamo le edizioni uscita e ti amo veramente quello che non ti ho detto sala d'attesa vive romantici gioia passione maledetta avevi ragione tu ok cosa aggiunge al vostro percorso questo ottavo album di inediti intanto l'ottavo è un otto che se lo disegna l'infinito quindi un album che si aggiunge agli infiniti a lui ci saranno no beh sicuramente aggiunge il primo passo della nostra terza nuova vita come ho detto è un disco vero fatto scritto di cuore scritto in maniera diversa rispetto agli altri dove non siamo andati a cercare le canzoni ma sulle canzoni che sono venute a cercare noi e questa è stata la cosa più importante per cercare di rendere questo disco più normale possibile perché nasce dai confronti con persone incontrate nei bar che con le quali mi sono sfogato e dalle quali ho ascoltato degli sfoghi quindi questo disco nasce da storia è un libro musicale di storie vere ecco e questo risinvolto è la canzone che ha dato in là a questo progetto non solo perché è stato il singolo apripista ma perché ha raccontato che ecco che la prima che è che è scritto sì perché sei così legato a questo brano in particolare mi ha toccato molto la storia di questi due personaggi che che chiamavano pazzi che chiamano pazzi che prende che venivano prese in giro solo perché si amavano a modo loro in realtà l'amore non è altro che accettarsi l'un l'altro e queste due persone lo facevano in maniera straordinaria mi ha toccato moltissimo ripeto vederli così distaccati cioè dalle cose che la gente pensava che diceva delle risate dagli insulti dalle dalle cose fottersene perché così dovrebbe essere nella vita fottersene degli altri e andare avanti per la propria stadia seguendo i propri sentimenti no i propri ideali su una serie di cose e loro lo hanno fatto e questa cosa qua ho deciso di metterla in musica e di portarla avanti anche poi nello show del tour perché poi insomma racconteremo anche attraverso un cortometraggio quello che è successo questi due personaggi dopo il videoclip certo dal punto di vista musicale questo è un album suonato dall'inizio alla fine da vera band e non è così scontato al giorno domani quale valore attribuite al suono analogico da chitarrista sono rimasto all style assolutamente il fatto di anche rispetto anche i dischi precedenti persino le batterie sono state trattate ancora più in maniera naturale possibile togliendo quei trigger che non vuol dire che non sono suonati è per carità proprio trovare andare un po all'origine del suono le acustiche riprese magari più naturale in maniera più naturale possibile insomma è che hanno comunque creato tutti tutti tutte queste piccole piccoli grandi cose hanno creato un po il suono per me molto bello di questo album ok tornando ai testi che ecco hai raccontato di aver in pratica pronto quasi un altro album realmente fantastico quindi hai scritto molto ma cosa è cambiato negli ultimi tempi appunto nell'approccio alla scrittura diventata più la vivi in maniera diversa rispetto a prima hai preso magari del tuo tempo guarda la cosa bella di oggi è che ho deciso di non fare più il cantautore per professione ma per passione per cui aspetto che le canzoni arrivino e ti devo dire che quando non le cerchi arrivano più facilmente per cui quello che è cambiato è questo non andare alla ricerca della canzone ma aspettare che arrivi da sola attraverso una storia da raccontare c'è adesso non posso parlare di canzoni altri rischi vedete un momento sto croce però ci sono tante argomentazioni che sono andate e sono andato a toccare e no non posso dire lo cazzo perché questo disco quindi non si può comunque la cosa che è cambiata è questa di prendermi il tempo che mi serve non voglio più avere scadenze ne ho parlato sin dall'inizio prima di firmare qualunque tipo di contratto detto a tutti non mi rompete le palle che c'è la scadenza entro io non voglio saperne quando c'ho il disco pronto vengo da voi vi citofono e lo facciamo e questo è il modo per sentirsi sereno e non avere fretta di fare le cose di e di farle più norma maniera più naturale possibile e per concludere ragazzi come sarà quindi questa vostra terza vita la terza vita di moda la terza vita dei moda innanzitutto ci aspettiamo appunto di viverla in modo sereno più molto più insomma dei di questi ultimi anni che per quanto sia stati bellissimi però sicuramente c'è un pochettino allontanato dalla realtà insomma no e ovviamente di portare in giro nostra musica per l'italia perché cosa fondamentale e continuiamo tantissimo e a riabbracciare i nostri fan e quale modo migliore se non attraverso il palco e quindi insomma dico il prossimo disco quanto pare è pronto quindi non vi fermate la vita è ogni volta una nuova vita quindi come se fosse l'ottava quindi lasciando perdere gli album no ma io mi chiamo silvestre come il gatto silvestro quindi siamo alla terza vita il gatto è un'amica sette quindi ce n'è a voi perfetto direi miglior modo per chiudere grazie ragazzi in bocca al lupo e buona musica